Benvenuti alla Link Campus University. Il Link's Talk odierno ospita un personaggio di grande spessore politico e scientifico, Pierpaolo Sileri, sottosegretario di Stato alla Salute. Sarà intervistato da Alessandro De Angelis e dibatterà su un tema di grande importanza ed estrema attualità, la gestione dei nuovi scenari della pandemia da Covid-19. Buongiorno Vice Ministro Sileri, uno dei protagonisti di questa fase, Vice Ministro alla Salute. Il Governo ha appena approvato l'estensione del Green Pass, rendendolo obbligatorio pressoché per tutti i lavoratori, sia del pubblico sia del privato. Di fatto lo possiamo dire, è un obbligo vaccinale, diciamo, nella sostanza, no? Allora, non amo, diciamo, contraddire chi fa domande, però a dire il vero non è puramente un obbligo vaccinale e nemmeno un obbligo vaccinale mascherato, perché il Green Pass si compone, direi, di due arti principali. Uno è sicuramente la vaccinazione e chiaramente è l'arto principale, perché abbiamo oltre 40 milioni, 42 milioni di italiani che hanno completato il ciclo vaccinale. Però l'altra parte è una diagnostica, una diagnostica che consente a chi non si vuole vaccinare, a chi non si può vaccinare, di poter ottenere un Green Pass che però purtroppo poi deve essere rinnovato ogni 48 ore. A proposito del mondo dei Novax, no? Su cui noi vediamo anche le manifestazioni più eclatanti, anche le manifestazioni più politiche di piazza. Lei come lo spiegherebbe, come lo analizzerebbe? Cioè chi sono i Novax? Sono una minoranza di persone che hanno delle convinzioni molto particolari, anche se io dovessi spendere ore e ore e ore per spiegare che non vi è un microchip inserito nel sottocute, non riuscirei a convincere. Quindi i Novax con teorie molto stravaganti. Poi sono coloro che sono dubbiosi sui vaccini e che quindi essendo dubbiosi rimangono in un limbo che diciamo in alcuni casi può essere più vicino alle posizioni Novax a secondo delle informazioni che sono state date a queste persone o che hanno trovato online. Il grosso problema è andare a reperire informazioni online. Sono quelli sostanzialmente che hanno paura di vaccinare, dicono vai avanti tu che poi arrivo io. O che magari non hanno diciamo quella base culturale scientifica tale da poter discriminare quelle che sono notizie davvero false o notizie che sono interpretabili in qualche modo. Su quello si può dire su quella parte che qualche errore diciamo di comunicazione dal punto di vista persuasivo lo avete fatto anche voi ricordo ai tempi di AstraZeneca ad esempio. Allora ci sono errori che hanno radici molto più lontane di questo. Innanzitutto coloro che non si vaccinano sono coloro che hanno meno fiducia nello Stato meno fiducia nel servizio sanitario nazionale e fateci caso le percentuali più alte di non vaccinati sono in quelle regioni dove è maggiore il distacco e la fiducia negli ospedali, nei medici, nel servizio sanitario nazionale. In alcune aree del sud. A questo poi si aggiunge anche un problema culturale. Voglio dire aver allontanato delle spiegazioni scientifiche dalla popolazione ha determinato una maggiore ignoranza nella scienza, o meglio una certa competenza scientifica, aggravata anche dagli ultimi anni dall'assenza ad esempio nelle tv di Stato, private o quant'altro di ad esempio trasmissioni che davano magari alla scienza un peso maggiore, è innegabile questo, negli ultimi anni sono scomparti moltissimi di questo. Un altro grosso problema è la scomparsa di una certa formazione sanitaria anche ad esempio nelle scuole superiori. Quando io avevo 18 anni, 17 anni, anche se non era previsto un ordinamento didattico, noi avevamo un medico, una biologa, a volte una dottoressa che veniva, era il periodo in cui iniziava l'HIV in maniera importante, a farci delle lezioni. Cioè c'è l'aspetto persuasivo, comunicativo e di esatto, e poi diciamo, proprio per collegarmi a ciò che ha detto lei, che indubbiamente confusione è stata fatta fin dall'inizio della pandemia, ma non confusione italiana, è stata forse una confusione globale, le faccio un esempio, l'OMS, l'OMS non è che abbia comunicato in maniera eccezionale fin da subito, poi i vaccini, gli enti regolatori europei, differenze anche fra gli enti regolatori, Europa e Stati Uniti. E poi pensate a quando sono stati approvati i vaccini, ogni Stato, cioè noi abbiamo un ente regolatorio europeo, però poi ogni Stato, il proprio ente regolatorio ha messo dei limiti diversi, questo ha determinato confusione e oggi la confusione, ad esempio, è per le vaccinazioni nei soggetti più giovani, alcuni Stati l'hanno fatta da subito, altri sono stati dubbiosi, questo non aiuta la popolazione. Mi piacerebbe avere un dibattito, magari ce la faremo un'altra volta, una conversazione lunga, anche su come sono d'accordo con lei, l'informazione ha gestito questa fase, diciamo, è come il circo proprio informativo, la gestita, i talk, eccetera. Però io le volevo fare una domanda più di fondo su questi temi che abbiamo introdotto. Allora, lei, un tema che ha posto anche il costituzionista Michele Ainis su Repubblica qualche giorno fa, lei ha fatto parte di un governo che ha dovuto fronteggiare l'emergenza quando non c'erano i vaccini, che fece il lockdown e a un certo punto si vide quanti conflitti e quanta confusione si ingenerò sulla parcellizzazione delle misure, no? Si ricorda, può uscire questo, non può uscire quell'altro, il giorno allentiamo, aperto, chiuso, eccetera. Oh, sui vaccini c'è anche questo nella scelta di estendere il Green Pass un po' a F-Govness, cioè il fatto che la parcellizzazione, se io comincio a dire questo sì e questo no, crea dei conflitti nella società, oltre che politici, no? Cioè il barista sì, il ristoratore no, lei sì, io no, eccetera. Cioè a un certo punto lo prende e lo fa per tutti. C'è anche questo il rischio della parcellizzazione delle misure? Ora questa parcellizzazione non c'è, c'è una certa progressione nell'introduzione delle misure, nell'allargamento del Green Pass, cosa che non poteva essere fatta quando siamo stati investiti dallo tsunami di questo nuovo coronavirus ai primi di, diciamo, di fra febbraio e marzo dello scorso anno. Oggi il virus lo conosciamo meglio, oggi siamo molto più presenti sul territorio, oggi siamo molto più organizzati, sappiamo come difenderci, abbiamo delle notizie molto più solide anche dal punto di vista scientifico. Sicuramente la parcellizzazione non aiuta e non ha aiutato, però sa, col seno del poi è facile dirlo, lì si trattava, chiudi, quali regioni chiudi, quale aree chiudi, quale regioni? No, no, ma non volevo fare un processo vero spettivo, era chiederle la dinamica del conflitto sociale, perché insomma questo è un altro aspetto delicato del Paese, no? Verissimo, credo che la... C'è chi dice perché io sì e tu no? Esatto, credo che questa non parcellizzazione che abbiamo oggi sia molto vantaggioso anche per far capire alla popolazione cosa stiamo facendo, perché lo stiamo facendo e dove vogliamo arrivare con quello che stiamo facendo. I critici in questi giorni, lo abbiamo visto in parecchie interviste sui giornali, dicono siamo gli unici in Europa ad aver preso una misura così draconiana, no? Non c'è nessun altro Paese europeo che ha esteso il Green Pass così tanto e portano anche l'esempio della Gran Bretagna, diciamo, no? Ecco, c'è anche un punto giuridico secondo me in Gran Bretagna, la Common Law, eccetera, però qual è il punto sanitario, diciamo, dal suo punto di vista? Perché noi sì e gli altri no? No, questa è una scelta ovviamente politica, l'estensione del Green Pass, devo dire che è una scelta giusta che ci consente oggi di tenere il numero di persone positive fra le 5 e le 7 mila, mentre invece i nostri colleghi europei del nord hanno dei numeri 4, 5 volte, anche 6 volte superiori ed è una strategia vincente nella doppia anima, diagnostica mediante il tampone per chi non vuole vaccinarsi e ovviamente la vaccinazione ed è anche una spinta verso la vaccinazione, questo è innegato. Sono le stesse critiche, si ricorda, che facevano ai tempi del lockdown, quando noi partimmo per primi, no? Lo fecero anche loro poi. Esatto, e poi arrivò in Francia, mi pare, dopo di noi lo fece anche il Regno Unito. E poi nel Regno Unito. Secondo lei accadrà lo stesso sul Green Pass? Anticiperemo, diciamo, un ITER che è abbastanza segnata di... Io penso di sì, penso che l'utilizzo del Green Pass porterà anche a un altro vantaggio, che sarà quello di eliminare, quando saremo con numeri migliori e ancora più vaccinati, ad abbandonare anche alcune di quelle precauzioni. Cioè, voglio dire, arriverà il momento in cui la mascherina non dovremo più usarla, arriverà il momento in cui avremo tutto aperto, con meno restrizioni, grazie a una circolazione inferiore del virus e grazie al Green Pass. E il Green Pass non sarà eterno, perché anche questo va detto, perché dice oddio, con il Green Pass quanto vivremo? Secondo lei quanto dovremo? È difficile poter dire, ma dipende dalla vaccinazione, dipende se non arrivano altre varianti. Diciamo qua, l'obiettivo è di induvere, ho letto, 5 milioni di persone a vaccinarsi, no? Più o meno la... Noi siamo 60 milioni circa, 54 milioni sono i vaccinabili, 42 milioni li abbiamo già fatti. Capite bene che fatto il 90% della popolazione vaccinabile, quindi arrivati a 48, 47, 48 milioni, la circolazione del virus sarà molto molto limitata. Cioè oggi io se incontro mille persone, di queste mille persone 75 hanno già avuto il virus, di queste 75 due sono morte, due o tre sono morte, 72 hanno gli esiti, diciamo, che sono guariti, qualcuno con qualche risiduo, ma degli altri il 70% è vaccinato. Quindi capite che se questa quota diventa ancora più alta, quando incontrerai persone che non si sono volute vaccinare o che non possono vaccinarsi, saranno protette da noi che siamo vaccinati e noi saremo molto più liberi. Cioè in questa stanza, ammettendo 10 persone, assumo che 7 siano già vaccinate o guarite, quindi le chance di prendersi il virus sono limitate. Si capisco, lei declina, io personalmente sono d'accordo, il tema della libertà in questi... perché c'è un grande... questa parola libertà è un po' abusata, diciamo, l'ha visto su questo dibattito, sia a destra che a sinistra, no? Non solo oggettivamente lo scetticismo della Lega da un lato, c'è per esempio gli interventi che hanno fatto sulla stampa il filosofo Massimo Cacciari e Agambella, no? Che dicono sostanzialmente che appunto c'è una limitazione della libertà. Cioè lei dice, noi ci vacciniamo per essere liberi, perché se non ci vacciniamo non possiamo incontrarci, non potremmo stare qui, non possiamo andare al ristorante, no? Sono due parole di cui oggi si abusa o meglio, si usano in forma sbagliata. Una è la libertà, l'altra è la democrazia. Allora, sulla democrazia un mio vecchio amico un giorno mi disse che si pensa che la democrazia sia qualcosa di estensibile, invece ha un perimetro molto molto rigido, ben definito. Ognuno oggi pensa che la democrazia è dove sta lui, no? La democrazia è bella, bella circoscritta. È uguale alla libertà. Io la libertà la associo a un'altra parola che è collettività. Libertà e collettività vanno insieme. La libertà non è il singolo. Non c'è animale che vive nel singolo. Siamo tutti, anche animali, diciamo, non esseri umani, vivono in una certa collettività più o meno ampia per potersi difendere, per andare avanti e quant'altro. Ed è il principio per cui nell'articolo, lei dice, 32 della Costituzione, lo Stato nel momento in cui tutela la salute dei cittadini si fa carico di questa tenuta della collettività. E' solidarietà, ma proprio collettività. Cioè noi dobbiamo prendere il buono e purtroppo anche quelle regole che consentono proprio a questa collettività di difenderci e di andare avanti. D'altro canto non possiamo pensare che ognuno possa fare come pensa, perché il pensiero deve essere comune. Il pensiero è della collettività. Lei ha introdotto un tema enorme, che è quello della democrazia. Le faccio una domanda così. Secondo lei il virus ha infettato anche la democrazia? Cioè noi in questi due anni abbiamo vissuto ovviamente in uno stato d'eccezione, c'è un'emergenza e quindi abbiamo visto cose che nella normalità non si vedono. Pensi il lockdown in quelle forme, fatto d'urgenza, c'è stata una sospensione di varie procedure. Secondo lei gli italiani si sono disabituati alla democrazia o tornerà come prima? Forse non è chiaro il concetto di democrazia, non è stato il virus, forse era già antecedente questo problema. Che si è infagilito. Che probabilmente le persone interpretano la democrazia come faccio quello che dico io, non quello che, ripeto, ha un perimetro ben definito. Cioè questi problemi vi erano anche prima, il virus li ha solamente resi molto più... Cioè il virus è stato il detonatore, diciamo, delle quantità. Ha portato i nodi al pettine e adesso è il nostro compito sciogliere quei nodi o tagliare quei nodi che non possono essere sciogliati. No, dico perché dopo le grandi crisi nella storia si è sempre usciti anche con una voglia e un bisogno di uomo forte. Secondo lei questa posca porta una torsione al sistema politico italiano? Io credo che non serva l'uomo forte, ma serva una società forte. E questa società forte si fa insieme con la discussione. Cioè avere un governo molto ampio, se lei si ricorda molte interviste che, voglio dire, a marzo e ad aprile scorso anno io ne ho dette di cose a volte anche andando controcorrente. Auspicavo, soprattutto quando vi erano le liti fra regioni, fra governo centrale da alcune regioni a qualcosa che stiamo vivendo oggi, anzi io sono un po' dispiaciuto che in questa grossa coalizione non ci sia Fratelli d'Italia, perché sarebbe molto bello vedere tutti insieme a combattere un unico nemico che è il coronavirus. È come qualche giorno fa, quello che ho detto in aula, si discute sul green pass obbligatorio, sul vaccino obbligatorio, ma la vera discussione dovrebbe partire da una base. Tutti e mille parlamentari dovrebbero dire se il vaccino salva o non salva la vita. Assodato questo, sul resto si può discutere, mentre invece purtroppo a volte un po' le ideologie, un po' diciamo cose che vengono dette, magari lette, interpretate e quant'altro portano a furviare anche i discorsi che vengono fatti dalla gente comune che sta fuori dalle aule e che ci ascolta. Sarebbe bello non un uomo forte come è successo in alcuni... No, certo, però mettiamola così. La sensazione è che stiamo dentro una sorta di curva presidenzialista di fatto. Se uno chiede all'estero che cos'è l'Italia, è un po' il paese dei due presidenti. Draghi e Mattarella, parliamoci chiaro, sono quelli che si sono caricati la crisi sulle spalle. E i partiti, non voglio far scendere nel chiacchiericcio politico, teniamola su questo piano analitico. I partiti sono quelli che arrivati al dunque hanno fatto crack nella crisi di gennaio, da una parte e dall'altra. Quindi in fondo ci si è già affidati a Draghi e Mattarella. Il problema è dopo, diciamo. Diciamo che abbiamo le elezioni presidenziali fra qualche mese e poi vedremo quello che... E già è abbastanza iniziato il posizionamento. Lei è chirurgo, giusto? Sì. Le manca la sala operatoria? Sì. Sì. Il Covid ha avuto un impatto anche sul resto delle patologie sugli ospedali, no? Cioè ha portato a un sovraccarico, diciamo, degli ospedali, per cui nella fase più dramanica abbiamo visto pure cure oncologiche ritardate, eccetera. La situazione adesso qual è? So che le sta molto a cuore. La situazione è che nonostante i grandi sporsi da parte delle regioni abbiamo tantissime prestazioni rimaste indietro dalla prevenzione, quindi dalla diagnosi precoce fino al trattamento. Finché si vive con l'incubo di una prossima ondata, ora finirà la quarta, inizierà la quinta, punto interrogativo, è chiaro che gli ospedali stanno sempre sul chi va là, stornando personale, energie, strumenti contro il coronavirus, lasciando sempre indietro qualcos'altro. Sono stati istituiti diversi tavoli al Ministero, grosso sforzo dal Ministero, il Ministro Speranza, me, adesso il nuovo sottessogliotario Costa, affinché possano essere ridotte questo accumulo di patologie non trattate. È vero questo, che prima finiamo con i ricoveri del coronavirus e li riduciamo a un numero esiguo, prima sarà possibile. Con il covid abbiamo scoperto l'acqua calda, diciamo, cioè che ci sono stati improvvi di tagli al sistema sanitario nazionale e che il sistema sanitario nazionale è un bene per tutti, no? Esattamente. Adesso c'è il PNR, c'è il PNR che porta delle risorse anche sulla sanità. Ci dice le principali linee guida su cui sta lavorando? Allora, diciamo, un rafforzamento del territorio. Il Ministero sta lavorando a due cose principali. La prima è una revisione del DM70, che era l'organizzazione territoriale, la riduzione degli ospedali su tutto il territorio nazionale, che probabilmente ha determinato un taglio dei posti letto, anche chiusure di ospedali, forse giusti in alcuni casi, meno giusta la riduzione dei posti letto in altri. E su questo stiamo già lavorando, ma il PNR prevalentemente prevede una maggiore azione sul territorio, con i distretti, case della salute, ospedali di comunità. Uno territorio. Due. Assistenza territoriale. Assistenza territoriale. Assistenza domiciliare. Assistenza domiciliare ovviamente integrata. Cioè andiamo a curare i malati a casa. Il rafforzamento di quelle che sono le strutture territoriali, comprese le farmacie. Pensiamo alla farmacia dei servizi. Questo porterà a una rivoluzione. E credo che sia, diciamo, la rivoluzione più importante del servizio sanitario nazionale, a partire da... Personale? Personale. Cioè tutto questo ovviamente si farà con tecnologia, quindi ospedali, territorio, tecnologia, telemedicina, tutta l'innovazione e il cambiamento degli strumenti che abbiamo e ovviamente il personale. Quindi scatola e contenuto. La scatola è ovviamente l'ospedale al centro e la periferia con le strutture che le ho detto e il contenuto che è l'innovazione tecnologica e ovviamente il personale. Senta, ma un bilancio, lei ricordava prima la fase conflittuale, cioè il conflitto istituzionale con le regioni, no? Si ricorda, a un certo punto ogni regione faceva come se fosse uno Stato federale, diciamo, no? Cioè chi minacciava di chiudere le frontiere, no? Abbiamo avuto dei momenti... Adesso viene da sorridere, però era, diciamo, una confusione veramente notevole. A fare un bilancio franco e schietto, a bocce ferme, il, diciamo, il federalismo all'italiano, il famoso titolo quinto, quando tutto sarà finito andrà un po' rivisto? Servirà un maggior controllo centrale da parte del Ministero, quindi un rafforzamento di indirizzo del Ministero. Cioè significa lasciare tutto in capo alle regioni, ma un più forte indirizzo da parte del Ministero della Salute con un monitoraggio che possa essere molto più ferro, molto più immediato e che consenta quindi una programmazione migliore. Pensiamo alla carenza dei medici, quella è tutta una incompleta, errata, chiamiamola anche mancanza di fondi, cioè tutto un insieme di cose che ha determinato una programmazione non perfetta. Per fare gli investimenti che dice lei è necessario che ciò che è provvisore diventi definitivo, mi riferisco al fatto di stabilità, no? Per esempio. Per esempio. Su cui sarà cruciale l'operato di Draghi di quest'altro anno, immagino che, no? Sì, considerando che andrà un po' rivisto tutto, perché la pandemia era in attesa. Tornare a parametri per pandemia sarebbe folle. Sarebbe una follia, voglio dire. Quindi credo che tutta l'Europa dovrà fare una rivisitazione e fare un programma. Tutto questo potrà essere fatto quando la pandemia sarà davvero alle nostre spalle. Adesso inizia a stare alle nostre spalle, ma non l'abbiamo ancora finito. Io credo che tutto il 2022 lo passeremo ancora, spero non con la mascherina, spero con una distanza, ma sicuramente gestendo ancora alcuni casi, gestendo le vaccinazioni, i richiami, eccetera. Qui servirà probabilmente tutto il 2022, anche perché non è solo l'Italia. L'Italia può anche arrivare al 90% dei vaccinati, ma devono arrivarci tutti gli altri paesi europei e soprattutto quei paesi che hanno una popolazione più numerosa della nostra e che purtroppo hanno meno accesso ai vaccini rispetto a noi. E per fare tutte queste belle cose è bene che Draghi rimanga a Palazzo Chigi, giusto? Diciamo, io immagino che abbiamo avuto tre governi in tre anni e mezzo. Sarebbe bello, questo lo dico non da parlamentare, sarebbe bello vedere un governo duraturo. Credo che l'Italia meriti un governo duraturo. E qui torniamo al concetto di democrazia, torniamo al concetto di fiducia nelle istituzioni. Certo che se tu hai uno Stato nel quale ogni 14 mesi cambia un governo, c'è qualcosa che forse non va alla base, no? Vecchia questione, diciamo. Esatto, è un problema, è questo che sentono gli italiani, è questo che poi porta gli italiani a non votare, a non aver fiducia. Cioè, sarebbe bello avere un governo duraturo che riesca a fare le cose. Lo dico da cittadino. Dica la cosa che le piace più di Draghi, lei ha lavorato con più governi. Beh, il pragmatismo, che è molto vicino a quello di un chirurgo. Va bene. Grazie, Vice Ministro Silevi. A voi. Buon lavoro. Grazie.